Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo di narrativa contemporanea che offre un'approfondita esplorazione dei disturbi alimentari attraverso il personaggio di Rachel. La storia offre un'occasione per comprendere le complessità e le sfide legate a tali disturbi, gettando luce sulla mentalità ossessiva e autodistruttiva che li caratterizza. La trama del libro Affamata della scrittrice Melissa Broder pubblicato dalla casa editrice NN è la seguente. Rachel ha 25 anni, vive a Los Angeles e soffre di un disturbo alimentare. Calcola ossessivamente le calorie, cerca di ignorare la fame e tra un piacere quasi erotico dei pochi cibi che si concede. Lavora per un noto agente dello spettacolo. Ogni giovedì sera si esibisce come stand-up comedian e si nasconde dalla madre, anaffettiva e dominante. Rachel usa la solitudine come scudo, contro le relazioni e le tentazioni. Fin con giorno, nella gelateria dove consuma di nascosto un yogurt ipocalorico, incontra Miriam, la nuova commessa. Miriam è l'opposto di Rachel, un tripudio di curve e morbidezze, il trionfo dell'abbondanza sulla privazione. Le due ragazze si innamorano, si esplorano attraverso il cibo che consumano insieme, si riconoscono nei corpi che traboccano di piacere. L'amore innesca una rivoluzione nella vita di Rachel, che però dovrà fare i conti con la famiglia ebrea ortodossa di Miriam e con le ipocrisie del suo ambiente di lavoro. Serrato, impetuoso e provocatorio, affamata, parla di sensi e appetiti, di sesso, di cibo e di ossessioni. Con una lingua ironica e sensuale, Melissa Brother rivela che per sfuggire all'infelicità l'unica strada è tornare a se stesse, affrontando il rischio di non essere conformi e la vertigine del desiderio. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero, lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami per favore a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie, iscriviti al canale.